Poker è passaggio del turno per la Juniors nazionale di Mr. Mucciante. Il Pineto sbanca il Paolo Poli contro i padroni di casa del Molfetta e avanza al secondo turno eliminatorio dei play-off scudetto nazionali con le reti di Padovano, Doppietta, Di Piccioni e Drobronic. Dopo le prime fasi di studio con ambedue le compagini che cercano il pertugio giusto e l'undici biancazzurro a provare con insistenza la via del gol. Gli alfieri abruzzesi però impattano più volte contro la retroguardia di Mr. Traversa che riesce a salvarsi dai tentativi firmati Piccioni, Padovano e Stella. Poco male però per i trenamani che mettono la freccia al trentunesimo, contropiede firmato del Mastro, dribbling funambolico e cioccolatino per Padovano che deve solo confezionare il vantaggio abruzzese. Ancora poi Piccioni a Girova vicino al raddoppio. Nella ripresa ancora l'undici del presidente dottor Silvio Brocco spinge del Mastro, trova un super Marchitelli a negargli lo 0-2. Ancora l'estremo ospite e super su Padovano. Piccioni poi impatta sul Re David. Poco male per il numero 10 che al ventiduesimo trova il 2-0 con un bell'incrocio in buca d'angolo. Il Molfetta accusa il colpo e perde la testa. 120 secondi dopo è entrato Drobonic a siglare il Tris. C'è spazio anche per il poker abruzzese ancora con Piccioni. Mantatore di giornata è imprendibile per i suoi avversari. Prima del triplice fischio è ancora Drobonic a spiolare il pochidissimo mentre Montese riesce a tenere inviolata la propria porta su Magarelli. Non succede più nulla. Il Pineto vince per 4-0 al Paolo Poli contro il Molfetta e stacca il pass per il secondo turno eliminatorio dei play-off scudetto nazionali categoria Juniors.